non so bene come funziona per cui speriamo che che registri ok quindi stavamo vedendo con dunque aspettate che mi sta dicendo qualcosa maestro una domanda riguardo a utilizzare o imparare a utilizzare max msp credi che crede che meglio farlo dopo o farlo un momento allora il punto è questo questi sono tutti strumenti diversi cioè max msp o più data o quello che volete sono strumenti che servono a costruire strumenti cioè non 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 servono particolarmente a comporre allora per esempio i vostri colleghi per esempio del secondo no non quelli del secondo anno ma quelli del terzo anno sono abituati a a comporre in questo modo si costruiscono uno strumento di max msp poi giocano con quello fino a quando non esce fuori la composizione allora per me per esempio cambiare questo questa abitudine è molto complicato con loro e vorrei che voi non prendeste questa abitudine perché perché per me comporre significa progettare non improvvisare significa perché va bene se volete poi faremo tutto un discorso sull'improvvisazione ma ma l'improvvisazione per me è l'utilizzo di tools di strumenti anche concettuali linguistici che voi avete già altrimenti non improvvise cioè se noi per esempio quando parliamo possiamo dire che improvvisiamo nel senso che non è che io sto pensando esattamente a tutte le parole che devo dire ve le dico mentre parlo no e però cosa posso dire posso parlare il linguaggio che conosco cioè un linguaggio che ho già il problema della musica o perlomeno per me il problema della composizione musicale è che uno deve anche inventare il linguaggio con il quale dire le cose no e questa cosa qua non si può improvvisare allora cosa succede quando uno improvvisa quando uno improvvisa sostanzialmente dice cose che ha già detto in qualche modo capisci scilla qual è il problema per me il problema per me qualsiasi strumento è uno strumento utile non vi dirò mai no questo non serve a vi dirò ma magari questo è più difficile questo è più facile eccetera eccetera il problema è a cosa servono gli strumenti cioè per esempio per fare live electronics è ovvio che uno strumento come pure data e max msp sono più utili che questi che stiamo usando noi perché si tratta di costruire uno strumento che vada insieme a un altro strumento o altri strumenti no e che faccia delle trasformazioni in tempo reale però questo cioè non non cioè non sostituisce per esempio le cose che stiamo facendo adesso queste sono cose diverse noi stiamo costruendo dei delle strutture stiamo progettando e costruendo e generalmente almeno per me questa è una posizione personale la composizione si fa così cioè la composizione si fa progettando una cosa e poi costruendo tutto quello che serve tutti i mattoni se vogliamo che servono per costruire la casa capisci quello che voglio dire sì una volta i compositori componevano col pianoforte no per cui per esempio adesso ancora in conservatorio se tu fai composizione devi fare pianoforte bla 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 eccetera eccetera ma il pianoforte è uno strumento che già ti dice come sarà fatta la tua musica capisci quello che voglio dire la tua musica col pianoforte la tua musica sarà fatta di armonia contrapunto melodie ritmo no è chiaro che se tu usi altri strumenti o comunque se non usi strumenti se usi la tua immaginazione per per immaginare cose e poi dopo vai a cercare gli strumenti che servono per farle la cosa funziona diversamente questo è il mio unico punto poi dopo di che appunto gli strumenti in linea generale si imparano da soli quindi quando tu vuoi imparare max msp ti metti lì e lo impari io ti direi di imparare pure data perché è libero te lo puoi scaricare puoi fare quello che ti pare eccetera eccetera puoi anche modificarlo max msp è un po più rigido da questo punto di vista però con questo decidi tu ma per esempio c'è un c'è un altro strumento che avevi menzionato che è super collider che è a metà un po tra si sound e max msp e se volete possiamo 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 guardarlo il problema grosso di questi strumenti e che ognuno c'ha i suoi pregi e i suoi difetti e riuscire a fare una progressione didattica in tutte queste cose cioè che abbia che sia relativamente semplice e che non abbia per esempio uno step di insegnamento troppo troppo ripido per learning curve troppo ripida è abbastanza complicato in questa in questa situazione questa è la mia unica problema fa fa freddo a città del messico no fa caldo ma è inverno però non è il sole tutti i giorni splendoroso che bello dunque allora stavamo guardando le cose che aveva fatto leonardo leonardo sei in grado di farcele sentire ancora sì fermo 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 facci vedere quello che hai fatto condividi il tuo schermo funziona funziona stavo facciando vedere prima si adesso si vede allarga allarga all'ospetto tira giù la finestra così si allarga no 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 ecco così poi dovresti anche stringere un po allora aspetta tanto per per spiegare a scilla l'altra volta abbiamo fatto i compiti con con leonardo marianna e milo milo e mariana oggi stanno male quindi non ci sono e avevamo messo avevamo messo tutto su su github quello che avevamo fatto e stavamo cercando di fare il compito quello coi i triangoli con i triangoli ascendenti e anche i triangoli che discendevano lungo una retta quindi avevamo fatto fargli un po' vedere no avevamo fatto dei triangoli cioè avevamo fatto degli oggetti in python che erano dei triangoli aspetta questa era la funzione lineare lineare che avevamo fatto per definire appunto questo l'avevamo fatto addirittura una volta prima ecco fagli vedere il triangolo questo qua è il triangolo di base è il triangolo che ha tre vertici tre punti ok vengono definiti i tre punti tu li dici come deve essere disposto e poi ce n'è una versione del triangolo di base che si chiama io l'ho chiamato triangolo uno che sarebbe un triangolo rettangolo cioè è un triangolo che ha diciamo uno dei lati che ha la stessa x quindi è dritto insomma un po' come l'avevamo disegnato se vuole o vabbè se ce l'hai il il disegno che avevamo fatto si se vuole prendo direttamente quello si aspetti vado subito qua slack slack no non era non era ah si no vabbè ma lo prendo direttamente da qui qua si ecco ecco era questo era l'esercizio 2 che stavamo cercando di fare ok e l'avevamo fatto solo che dunque scusami no fammi piano fammi vedere un attimo ok quello che avevamo avevamo detto perché la ne avevamo fatto una versione che che sta la poi la poi compilare sta su github però avevamo notato che eh diciamo il non si sentiva veramente il triangolo perché perché i perché le note nel triangolo erano distribuite eh uniformemente cioè dall'inizio fino alla fine erano distribuite uniformemente mentre invece forse l'idea poteva essere quella di metterne di più all'inizio in maniera da far sentire il lato verticale eh no? e poi man mano eh diradarle sempre seguendo eh questa forma ehm e credo che sia questo quello che hai cercato di fare sì 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 è quello che ho provato a fare ok quindi vediamo allora allora l'idea era questa aspetta un attimo vai piano eh allora l'idea era che eh si facevano dei dei triangoli eh fatti così e praticamente all'interno di questo triangolo cioè all'interno di della forma di questo triangolo venivano scelte delle note ok eh eh il punto era di sceglierle in maniera mhm eh decrescente eh non mi pare che tu ci sia riuscito Leonardo però vediamo un attimo ancora aspetta fammi vedere adesso il finale? sì il finale sì il finale ok aspetta ferma 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 eh il allora Scila qui eh ci sono eh cinque di questi triangoli vedi che sono scelti eh in questo modo qua eh con questi dati qua perché il punto il punto del diciamo del comporre non è tanto di scrivere il codice perché il codice vabbè una volta scritto è scritto buonasera il punto è di scegliere i dati cioè eh lì cambia tutto a seconda di come li scegli ti cambia completamente la composizione e poi adesso su sui dati faremo faremo un discorso eh eh aggiuntivo comunque eh Leonardo ha fatto cinque triangoli quelli che stanno sotto diciamo della voce di basso e eh e poi eh ha fatto avevamo fatto nell'altra nell'altra lezione avevamo fatto una una forma contenitore che era una una forma che aveva che era sostanzialmente una retta discendente lungo lungo la quale erano disposti non so quanti non mi ricordo quanti triangoli ah beh quanti se ne mette lì in nel numero n sì 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 il numero di note no è il numero di triangoli questo no eh vedi il parametro n dell'inizializzazione sì sì è bene è bene scilla fagli vedere Leonardo qual è il parametro n no perché non si vede no no il parametro n aspetti che glielo ritrovo no no sta nell'inizializzazione eccola sì eccolo qua ecco questo sì non lo vedevo io tra tutti questi dati qua no 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 e viene passato e viene passato ehm nella creazione di questo contenitore quindi uno gli dice fammene 3 di triangoli fammene 4 fammene 5 eccetera eccetera ehm va bene allora adesso torniamo torniamo al al driver diciamo no 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 al software che controlla tutto quindi vedi lui ha messo cinque triangoli in basso e i dati sono ehm mi pare action time il primo action time durata sì durata la frequenza bassa la frequenza bassa alta no questa dovrebbe essere l'amplitude e questa frequenza no 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 sti frequenza bassa frequenza alta amplitude no sono tutte e tre frequenze cioè perché sono la frequenza bassa e la frequenza alta dell'inizio io l'avevo messa come parametro 4 la frequenza sbagliata sì ma no 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 ma il parametro non c'entra niente con quello che il triangolo ha ehm ehm se tu vai a vedere come stampa aspetta un attimo fammi spiegare a Sheila poi dopo in quei triangoli lì ehm la frequenza bassa cioè ehm 50 per esempio è la frequenza bassa è il vertice inferiore del triangolo 150 è la frequenza superiore e poi 400 è la frequenza finale quindi tutte le note cominciano tra 50 e 150 poi salgono pian piano si stringono vanno a 400 questo allora è qua dove mi sono bloccato sì cioè ho sbagliato mentalmente va bene il punto è che no la cosa strana qui è che tu dovresti avere perché vedi che ci sono il primo triangolo va da 0 a 7 secondi il secondo da 14 a 21 quindi dovresti avere delle pause da 21 da 7 secondi che io non sento eh me lo sto chiedendo anch'io perché la tag time e la duration ero sicuro che fossero quei quei valori là ehm Leonardo ma quando appunto quando le cose non vi tornano cioè quando le cose uno dice ma ma perché la faccenda va così e non cosa vuol dire che appunto c'è qualcosa di sbagliato bisogna andare a guardare non è che ok comunque scusami torno un attimo indietro torno a dove stavamo ehm sempre per Sheila la 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 voce di soprano diciamo diciamola così eh parte da dal quinto secondo e dura 55 secondi vedi i dati li vedi Sheila stanno sotto dove c'è scritto soprano sì ok eh durano dura 55 secondi siccome questa tutta questa cosa dura più o meno 60 secondi eh questa voce corre lungo tutto il brano e eh eh qua c'è la frequenza dunque avevamo detto che eh mille e cinquecento è la frequenza di partenza cioè parte da mille e cinquecento come frequenza centrale dei triangoli e arriva a cinquecento come come frequenza centrale quindi fa sostanzialmente una quinta cioè un'ottava una quinta e eh eh tutti i triangoli hanno partono da da trecento eh da trecento eh da trecento hertz di range quindi diciamo che il primo triangolo andrà da mille e cioè trecento hertz di range vuol dire trecento intorno alla frequenza centrale quindi centocinquanta e centocinquanta sotto quindi per esempio all'inizio il primo triangolo dovrebbe avere mille e seicentocinquanta come bordo superiore e mille e eh trecentocinquanta come bordo inferiore capisci? Sì e ci sono quanti non li vedo? sette, due, tre quanti sono i triangoli? non vedo bene il numero è l'ultimo numero il numero è sette sette triangoli ok cioè per esempio vedi Scilla questo è un esempio di un di un contenitore che costruisce triangoli quanti ne vuoi basta che basta che gli scrivi quanti ne vuoi quanti ne vuoi fare ne vuoi fare mille ne fai mille capito? ehm il problema di queste cose qua è che non vi dovete far prendere la mano perché e in musica non è che la la certe volte l'abbondanza è una cosa buona altre volte non non lo è dunque ehm poi scusami ehm Leonardo c'è un'altra cosa tu usi soltanto questa tavola qua nel nel codice ehm no ne uso anche un'altra tra si usi usi una perché io ho visto che usi un'onda quadra si uso anche un'altra tavola che è la F2 0 4096 si ma questa qua che è la stessa dunque aspetta un attimo perché ehm no la F2 è la sinusoidale e la F1 è un dente di sega quindi sì ma mi sa che ma mi sa che invece sono tutte distorte perché perché vanno in conflitto tra loro sì e quindi ti vengono fuori tutte onde quadre adesso quindi mi consiglio di cancellare questo no fermo ehm fammi vedere che cosa succede dal punto di vista cioè dunque qui c'è qualcosa che non va ehm perché manca l'ampiezza e tu qui hai come P4 cioè praticamente P4 è la frequenza ma l'ampiezza scusa ehm non vedo bene puoi ingrandire se tu fai control più si ingrandisce sta roba e ricontrollo subito cioè non ho capito bene non si riesce a ingrandire ok no vabbè 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 è solo che mi dovrai leggere un po' di cose per me perché non ci vedo vediamo un vabbè lascia perdere non ti preoccupare no la iamp iamp che cos'è ehm cosa c'è scritto amp di BFS di P4 si di parametro 4 e quindi tu hai due volte il parametro 4 lo usi sia come frequenza che come ampiezza non credo non credo che questa cosa possa andar bene ok allora P5 allora come metto P5 aspetta eh bisogna rifarlo non va bene così qui devi scrivere P5 e e e e manca l'ampiezza quindi nella stampa dei triangoli prendi i triangoli no prendi ehm il triangolo base dov'è che stampa qua no non c'è ehm in finale qua 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 aspetta ok dunque tu c'hai l'ampiezza eh però questo non funziona così perchè qua noi abbiamo quanti parametri uno due tre quattro e cinque e e e non sta e non sta printando uno dei cinque parametri aspetta perchè qui manca dunque l'action time è quella la durata è quella l'ampiezza la la frequenza la sceglie in base all'action time l'ampiezza quant'è? ecco perchè ci manca l'ampiezza qua ah no gliela passo da fuori va bene allora fammi vedere vabbè fammi vedere chi è che chiama chi è che chiama eh il triangolo 4 no triangolo 1 questa qua si ho capito ma non è non è lui che cioè ah chi è che chiama fuori ma eh ok il driver eccolo qua eccolo qua qui va tutto bene eh però eh ok no allora c'è un altro problema cioè forse è la voce di soprano che che spascia tutto cioè è il contenitore andiamo qua vediamo dov'è la chiamata a tutto qui appende tutto poi quando fa ecco giù 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 vai giù quando fai questo ecco qui eh ah no perché la frequenza lui la sceglie la sceglie in base a aspetti la trovo subito qua sì ma sì ma sì ma sì ma sì ma dunque scusami torna indietro al al triangolo quello è il rettangolo dove c'è la 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 funzione tucci sound ecco questa lui vuole tre parametri dura ampiezza ok perché la frequenza se la sceglie lui sì sì non capisco questo perché eh non dovrebbe scusa mi fai eh ce l'hai una console un qualcosa o se no fai fai eseguire fai eseguire il driver o no 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 non lo so se lo puoi fare da qua dentro eh volevo dirglielo in questo momento glielo ho fatto vedere prima come eseguiva ora non mi funziona più per qualche strano motivo ok cosa dice mi da eh from form import forma è un errore di sintassi e from triangolo base import triangolo 1 allora c'è un errore di sintassi però oggi fino a due secondi fa funzionava va bene va bene non non vediamo cioè from linea from random eccetera eccetera dov'è che alla linea 1 allora sì alla linea 1 di questo qua from forma import forma ma forma non eh vediamo gli errori che dice lui dice unresolved reference in triangolo 1 allora vai a vedere triangolo 1 no in triangolo qua dice che questa qua è una referenza irrisolta cioè una chiamata irrisolta eh perché ma triangolo 1 si chiama triangolo underscore base come si chiama no si chiama triangolo ah no triangolo file eh triangolo spazio base no spazio cribbio non ci possono stare spazi cambiali allora sicuramente lo spazio beh certo non lo trova non ci possono stare perché non è una stringa non sta tra virgolette quindi gli spazi sono significanti aspetta allora devo rinominare questo qua si devi fare sei vaso quello che è aspetta allora vado direttamente a rinominarlo qua eh cartella eh project questo qua tu fai troppo casino leonardo sei 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 un casino di nero poi ok va bene scilla non fare come lui si ordinata fai tutte le cose ordinatamente ecco qua è triangolo underscore base no ok ok bene allora allora non lo ripetiamo eh eh from finale che succede vediamo se gli dà problemi ora gli dà problemi in forma no aspetta eh eh cosa scrivi alla fine nel merlo triangolo triangolo is not defined non c'è triangolo tu lo chiami triangolo base o triangolo 1 non c'è triangolo aspetta no è giuro in base è la riga 23 di triangolo base eh triangolo base lo definisco qua tra parentesi cioè triangolo 1 eh appunto ma lì c'è che viene da triangolo e invece si chiama triangolo base sta attento coi cambi di nome perché poi ti dimentichi cioè i nomi una volta che sono quello devo cancellare eh quello deve essere ma no 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 ok come si chiama questo il triangolo sopra quello sopra triangolo base eh quindi quello si deve chiamare triangolo base no no non qui piano 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 Leonardo vai piano tu corri troppo vai al triangolo base ok triangolo base ok quel triangolo lì alla riga 29 si deve chiamare triangolo il triangolo 1 è figlio di triangolo base non di triangolo non c'è triangolo triangolo ah ok quindi se tu cambi dei nomi io no no si deve chiamare come l'hai chiamato sopra con la t maiuscola cioè devi stare attento a queste cose se no no c'ha la t maiuscola non la vedo sì 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 c'ha la t maiuscola ok 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 adesso riproviamo comunque te l'aveva detto lui dice il triangolo non c'è adesso lo fa ok perfetto allora adesso adesso ci ha messo anche la la l'ampiezza ci sono cinque campi quindi più o meno è quello che che dovevamo fare adesso io ti avevo detto fai fai separatamente le cose così puoi però tu lo vuoi fare in un altro modo va benissimo adesso ti tocca fare copia e incolla di tutta sta baracca vabbè mamma vi complicate la vita inutilmente ok ora mi ha printato anche ok sì ha printato la cosa adesso vediamo adesso devi rincollare lì dentro tanti auguri se usate due file separati riuscite meglio vabbè aspetta levagli quella a fare se no aspetta un attimo levagli process finished hai copiato una riga di troppo no ecco quella quella riga la va via non l'avevo notato scusi ok questo questa roba qua non so che cosa sia non lo voglio sapere va bene adesso poi possiamo risuonare questa cosa sì immediatamente vi faccio controllare dovrebbe essere dovrebbe averlo esportato qua dentro perché non l'ha esportato qua dentro first time allora questo guardate che questi sono file ancora piccoli quando poi diventano grossi quando diventano file grossi diventano più difficile fare questa roba eh cioè se non siete ordinati e non fate le cose come vi dico io vi complicate la vita allora o render da 12 ed è quello che devi fare fare il render sì ok ok ah ma perché sì scusi scusi stavo eseguendo la cosa sbagliata sì ok no problem molto meglio aspetta adesso adesso mi sembra che non abbia mai distorto va bene già già è una cosa in più controlliamo subito eh audacity questo non è questo ok questo qua lo chiudiamo senza salvare e qua eh render ok ok questo è più simile a quello che avevamo fatto no adesso fai vedere lo spettro perché così non è che si capisce un gran che ma no ma eh fai controlle f ecco se fai controlle f lui lui si mette a ecco così eh allarga un po' la finestra eh qui non vedi allora allarga un po' la finestra allora eh vedi scilla eh sì più o meno più o meno viene quello che allora non viene eh esattamente come ce lo siamo immaginati perché le scala perché perché noi qui vedi che la la riga dritta eh non è una riga dritta adesso questo non lo sentiamo devi uscire no in alto c'hai non so altoparlanti scarlet no devi scegliere eh sì questo qua è l'uscita gliela faccio glielo faccio sentire sì grazie no però comincia dall'inizio no fai ecco torna a capo perché avevi messo il cursore no sei lì torna indietro guarda no ah ok va bene ok no 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 ok bene allora non mi dispiace vi accontentate di poco ragazzi dunque allora questo è più o meno scilla quello che avevamo fatto l'altra volta però vedi leonardo tu devi stare attento nel senso che quello che avevi fatto aveva degli errori per cui non era quello che volevamo fare infatti mi sembra anche a me strano come risultato quello che mi ha capito ma quando ti sembra strano devi andare a vedere devi andare a guardare però c'era un errore a fare il mio abbastanza stupido vero qua avevo chiamato triangolo e basta non triangolo base lo so ma sai perché hai fatto questo errore perché noi l'avevamo chiamato triangolo tu hai voluto che cambiare il nome e poi allora quando si cambiano i nomi sappiate che noi so nel software quando si cambiano i nomi si fanno errori di solito perché uno si dimentica di cambiarli da tutte le parti eccetera eccetera normale una cosa normale adesso la cosa che per recuperare con scilla la cosa che avevamo detto è ma qual è il problema dentro questa cosa che abbiamo fatto fai fai torniamo a vedere si stimo quello no ma non questo torniamo a vedere il vecchio render sì no no questo qui questo che abbiamo fatto questo che abbiamo fatto adesso fa una cosa guarda se tu vai sulla sulla colonna sinistra della scala forse lo puoi ingrandire un pochetto cioè vai col tasto no no ecco lì col tasto destro e fai zoom in mi pare zoom avanti sì zoom avanti oh cribbio no però lo devi fare in basso perché non mi ricordo come adesso vallo fai dal basso non ho proprio da ecco così ok adesso la anche troppo la questione che che avevamo notato l'altra volta è che basta basta va bene così ci sono due due problemi qui che per esempio siccome allora prendiamo la voce bassa soltanto la voce bassa la voce bassa distribuisce equamente tutti i suoi suoni eventi li distribuisce ugualmente nel tempo questo non permette di cogliere veramente l'essenza del triangolo non ti pare scilla cioè la si sente si sente soltanto una linea ascendente non c'è veramente un triangolo dall'altra parte per esempio nella linea discendente adesso non so perché magari è un errore nostro però mi sembra una discesa esponenziale più che una discesa lineare man mano che si va avanti qui la frequenza in alto scende esponenzialmente vedete che all'inizio è a 1500 già la seconda volta a 1000 e poi scende più o meno linearmente infatti non succede un granché dal punto di vista della non succede un granché dal punto in alto succede soltanto in basso e anche lì c'è lo stesso problema della del che non si sentono veramente i triangoli lì abbiamo usato molte molte note in basso abbiamo usato poche note ok però tutto sommato non sono cioè non è così ben definito il disegno ok allora adesso il lavoro potrebbe essere quello di dire definiamo meglio il disegno poi in realtà l'altra volta avevamo fatto anche un altro lavoro avevamo lavorato con suoni concreti ossia con dei suoni che così che avevo tirato fuori dal mio computer non so da dove e avevamo cercato di fare quel quella cosa che dicevamo il crossfade alla 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 bergman che era aspetta no questo l'avevamo fatto il 30 mi pare mi pare pare che no il 39 ecco sì avevamo fatto avevamo preso due suoni concreti e fatto un crossfade che però non funzionava bene anche quello ora io diciamo che il fatto che le cose non funzionino bene per me è fondamentale per imparare perché dovete sviluppare il senso di dire sta facendo esattamente quello che dico io no e se non lo sta facendo perché perché uno delle uno dei problemi che ci sono con gli studenti generalmente che si accontentano di quello che riescono a fare cioè quando sono quando quando una cosa esce fuori sono talmente contenti che esce fuori che basta così in realtà non è così che bisogna procedere bisogna bisogna non accontentarsi e dire ma che cos'è qual è il problema per esempio appunto riprendiamo il discorso che stavamo facendo prima il discorso stavamo facendo prima è riusciamo a cioè quel disegno che abbiamo fatto è è quello che volevamo fare non veramente allora cosa 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 possiamo fare che scelte possiamo fare allora per esempio secondo me per fare per fare venire fuori per esempio i triangoli bisogna accumulare più note all'inizio e meno note alla fine ok quindi il codice che bisogna fare non deve adesso leonardo puoi riprendere oppure non so se vuoi lo prendo io faccio vedere io come la cosa che dovevi prendere allora puoi prendere il driver di come è fatto dunque ecco qui dunque noi abbiamo questi cinque triangoli questi facciamo così per il momento facciamo solo la voce di basso metti un hash davanti alla riga 27 la soprano tu ci sono così vediamo solo la parte di basso ok adesso cerchiamo di capire come deve essere fatto no no diesis un commento fai come se fosse un commento in maniera che non la fa questo modo per no no scrivi il diesis così questo lo rende un commento e quindi non la fa e quindi non lo sono al vero ok ho capito ora il ok ok qual è il problema qui si la e leonardo il problema è nella riga 25 se perché perché c'è uno step fisso che viene nominato prima no la riga 25 quella dopo ma venti è 25 vero allora il punto è questo che noi facciamo qui facciamo una nota dietro l'altra ok e quindi tutte le note sono è come un arpeggio legato capite sono tutte le note una dietro l'altra ma per esempio ma non è detto che le dobbiamo far così cosa potremmo fare per accumulare più note all'inizio e meno note alla fine dare un valore un valore unico all'attac time invece di legarlo allo step no quello non è l'attac time quello è l'action time se partono tutte le note insieme se tutte le note partono insieme ci sono tante note all'inizio sì c'è un accordo e basta c'è un accordo e basta il triangolo non si sente no no quello che bisognerebbe fare secondo me è che lo step segue una progressione discendente cioè lo step o ascendente secondo me lo step è molto corto all'inizio in maniera che ci sono molte note insieme ok magari partendo proprio da zero e poi cioè quindi ci sono delle note insieme e poi man mano che va avanti il tempo le note si distanziano ora il punto è che questa cosa si può fare anche in vari modi se posso avere un attimo prendo un attimo lo schermo ci faccio vedere vi faccio vedere in che modo lo possiamo fare aspetta un attimo prendo un attimo lo schermo prendo no aspettate prendo la tablet grafica il mio computer è lento dovete avere pazienza ok prendo la tablet ok la vedete ok allora noi ci abbiamo il nostro step attualmente il nostro step è così è uscita Sheila aspetta non la vedo è uscita non c'è più possibile no allora facciamo facciamo un'altra facciamo due andamiche cioè così vediamo come sono possibili gli andamenti allora se per esempio facciamo quello che abbiamo adesso un andamento lineare che fa no è un andamento costante si va verso l'alto sostanzialmente il risultato di una roba del genere è questo si praticamente era come i rettangoli dell'altra volta solo che è leggermente inclinato si no nel senso che va verso l'alto adesso se faccio un andamento lineare per esempio parto da una distanza zero no e poi vado verso l'alto allora quello che otterrò qui è che si accumulano tanti qua no poi man mano che perché questo è lo step come aspetta questo è lo step e questi sono gli action time no allora se lo metto così è chiaro che man mano che vado avanti questi si distanziano sempre più ok in maniera lineare adesso se per esempio lo faccio logaritmico invece cioè questo colore qua logaritmico sarebbe così no vuol dire che c'è molta c'è molta accumulazione veramente qua logaritmico non può mai essere zero però diciamo che possiamo mettere un offset e poi allora vuol dire che abbiamo molti qua no molti oggetti qua molto distribuiti e poi pian piano che andiamo avanti subito diventano radi ok quindi vanno sciamando verso la fine vanno si diradano verso la fine l'altra cosa è di farlo invece esponenziale ok che è il contrario e allora esponenziale invece così sono ma il triangolo al contrario è appunto qui no qui significa che qua sono sono molto molto accumulati tantissimi no sono tanto tanto è tanto pieno qua il triangolo e poi improvvisamente diventa rado quindi secondo me la allora questi sono diciamo che li chiamiamo i possibili possibili andamenti ok allora tanto per non saperne leggere e scrivere va bene questo questo adesso lo salviamo lo mettiamo da qualche parte abbiamo sempre lo stesso problema qua di andare oggi siamo il 21 dicembre wow ma la prossima lezione di tutoring sarà dopo le vacanze di natale mi sa di sì perché è il 24 adesso poi vediamo poi le lezioni di tutoring bisogna decidere se farlo oppure no ma penso che si sono molto utili io vorrei ritornare a parlare di musica poi abbiamo fatto anche con questa lezione facciamo esercizi l'abbiamo fatte tre quindi questi sono possibili andamenti è tornata scila io non la vedo perché sì la quando quando sei stanca che perché per te sono adesso sono le due un quarto di notte no se non sbaglio sì riesco riesco ok allora no scusami no aspetta un attimo facciamo vedere un attimo quello che stavamo facendo e quello disegno di sotto c'è è una granulazione no aspetta se vogliamo una granulazione ma non è aspetta adesso lo riprendo lo riprendo quello che stavo dicendo ecco questo scusa grazie dalla ripetizione leonardo va troppo in fretta per cui allora la questione è questa questa è la nostro è il nostro step no fino adesso quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con uno step costante questo rosso a questo rosso non fa altro che mettere le cose una dietro l'altra capisci scila se noi usiamo invece un andamento lineare questo blu quello che succederà è che qui ce ne sono un po di più e qui pian piano man mano che si va avanti ce ne sono sempre meno ok però possiamo fare anche altre funzioni cioè per esempio una funzione logaritmica no che ci permette di farne tanti all'inizio secondo me incidentalmente questa è forse la migliore però è da provare ce ne mette tanti all'inizio e poi improvvisamente li dirada oppure al contrario quella esponenziale che è questa celeste che ne mette tanti per molto tempo e poi verso la fine li dirada perché questa è la durata dello step no questa questo asse qui per cui diciamo se quando salgo lo step si allarga chiaro scilla sì però anche c'è la possibilità di mantenere sempre la stessa densità certo questa è una roba che dobbiamo costruire non è fatta per cui ce la facciamo come la vogliamo mantenere la stessa densità è quella che abbiamo fatto è questa rossa che però non fa un triangolo veramente propriamente fa soltanto un glissando cioè non glissando una sorta di arpeggio ascendente no l'unica cosa che fa sentire il triangolo è che all'inizio le note diciamo sono prese più a caso e verso la fine le note convergono verso una frequenza ma questa è l'unica cosa che succede ora io faccio una cosa se non ti dispiace cioè leonardo se non ti dispiace lo faccio io questo questa questo passaggio in chiesa no lo lo adesso no se no fallo tu cioè no volevo scriverle queste cose ok ah sì 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 ok perché oltre alla funzione lineare ci dobbiamo fare delle altre funzioni ci dobbiamo eh sì dobbiamo fare la logaritmica logaritmica e la funzione esponenziale ok allora facciamo così no intanto va bene diciamoci come sono fatte queste funzioni qua e poi dopo le scriviamo le scrivi tu allora qua apriamo un nuovo nuovo disegno una funzione esponenziale vi ricordate dai banchi di scuola no facciamo prima la logaritmica la funzione logaritmica è una funzione di questo tipo è come la funzione lineare allora vi ricordate la funzione lineare è così no cioè a a e b sono dei coefficienti che bisogna trovare questa è la funzione lineare vogliamo fare una funzione logaritmica è la stessa cosa solo che è log t della funzione lineare sostanzialmente questa è la funzione logaritmica se vogliamo fare quella esponenziale è la funzione lineare però come esponente come esponente di un di una base che piglieremo tanto fa lo stesso le basi non cambiano niente quindi si può scegliere quella che si vuole la base è quella più il numero di nepero è quello più usato comunemente fermatemi se c'è qualcosa che non capite ok allora adesso la funzione lineare l'abbiamo fatta l'abbiamo vista quindi direi che possiamo vedere la funzione logaritmica allora noi dobbiamo sempre trovare scusate la scrittura ma non è banale scrivere la funzione logaritmica la funzione logaritmica la funzione logaritmica dobbiamo sempre trovare a e b no? allora la riscrivo per dobbiamo sempre trovare a quanto vale a e quanto vale b e questo dipende dai nostri da quello che vogliamo fare allora per esempio avremo sicuramente due funzioni due due punti il punto di partenza e il punto d'arrivo quindi ci avremo y0 è log di ax0 più b no? e y1 è log di ax1 più b questo è ok? questi sono i nostri due punti che sono il punto di partenza e il punto di arrivo e quindi a questo punto io devo levarmi questi logaritmi che mi stanno tra i piedi e quindi se io prendo e alla y0 questo è uguale ad ax0 più b no? e e alla y1 è uguale a ax1 più b a questo punto faccio la sottrazione di queste due e faccio questa meno questa no? faccio e alla y1 meno e alla y0 è uguale a a per x1 meno x0 più b ok? quindi a eh eh scusate non più b perché b se n'è andata nel frattempo questo va bene eh eh perché fa fa più b e meno b e quindi se ne va e quindi a si annullano a b a e alla y1 meno e alla y0 ok? quello è e alla y1 scusi? si scusami ok no 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 non si preoccupi ed è diviso da x1 meno x0 ok e eh aspetta un attimo e b a questo punto una volta che uno c'ha a no? basta riprendere eh una di queste equazioni quella che volete e b è ovviamente e per esempio e alla y0 meno eh a che è quella roba là sopra alla x0 ok fine della questione va bene la eh adesso vi scrivo anche quella esponenziale che è è è la simmetrica di questa poi dopo le le implementiamo tutte e due così così ce l'abbiamo una volta per tutte e buonasera funzione esponenziale al contrario eh questo è al contrario è eh eh y uguale alla e alla x a x più b no? quindi eh adesso non vi rifaccio tutti i passaggi quindi log y è uguale ad ax più b no? e quindi sostanzialmente uno si ritrova che eh a è uguale a log di y 1 meno log di y 0 eh scrivo una roba dico una roba e ne scrivo un'altra y 0 fratto b ok fratto eh x1 meno x0 e poi e poi b è uguale a log di y e di y 0 meno a x 0 Sheila ci sei? ok? sì sono qui no no eh è tutto chiaro qui non ci sono problemi vero? vero 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 ok no no va bene va bene adesso eh eh leonardo ce le implementa tutte allora aspetta un attimo che salvo prima poi ti ti ridò la mano eh no no eh no 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 vabbè ma lo facciamo insieme eh crack eh eh fatemi fatemi salvare questa roba dove siamo 12 21 ok bene io lo tengo qua e poi dopo ehm se serve lo lo ritiriamo fuori eh vai prendi lo schermo leonardo vai proviamoci aspetti eh poi ci ha una qua eh fin essere l'applicazione ok eh new eh patent file eh allora ne dobbiamo fare due facciamo due file come abbiamo fatto linear facciamo eh logaritmo eh log fai log.py no con l minuscola per favore grazie .py eh me lo mettete in automatico va bene adesso qui qui fai una cosa copiati il codice della funzione lineare perché è praticamente identico solo che eh prima di questo mi pare che tu debba fare scriverci import mat naturalmente eh no potrei anche importare non pai invece di no no per carità per carità non non pai che import mat cioè non pai non pai è una roba gigantesca mat è una roba piccola ma piccolo e bello ok small is beautiful al contrario di quello che si pensa dovrei già aver fatto il tipo di mat import mat ok adesso fai una cosa fai la la funzione ovviamente la devi chiamare log ok eh def no no usa usa quella che hai fatto ok lì c'è scritto linear scrivi log invece che linear e l'interfaccia la facciamo esattamente uguale ok fermo buono cosa fai eh piano 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 ok adesso invece di eh log di vedi nella a sostituisci y1 con exp di aperta no mat punto exp oppure scusami puoi fare una cosa invece che fare import mat digli from mat import exp così ce l'hai e basta sempre fare la cosa più semplice possibile exp ok adesso qui ci metti exp di y1 exp spazio y1 no no exp aperta parentesi y1 chiusa parentesi questa è la funzione e elevato a y1 ok e poi meno exp di aperta parentesi y1 ok ok y1 0 e qua devo metterci un'altra parentesi that's all abbiamo fatto la funzione no scusami no no that's all no no anche b è a moltiplicato exp di x0 no no b b ah ok ha moltiplicato aperta parentesi di x0 chiusa parentesi ok e adesso il return è exp di quella roba lì ok quindi that's all folks abbiamo fatto tutto che è in realtà in realtà sono molto semplici i computer lavorano per voi e voi non lavorate per i computer ok adesso proviamolo un attimo prendi una console ce l'hai una console di python? si è questa qua ho capito si però però dobbiamo scrivere del codice non è cioè a me mi serve proprio la console viva cioè che in cui tu scrivi codice python aspetti che faccio un nuovo file no si test log quello che vuoi scrivere diciamo vabbè ok allora from log import log ma no ma io vorrei avere una console non ce la puoi avere una console di python qui eeeh ma dovranno comunque solo questa è la console no se vuoi aspetta questa è la console se lo ranno qua sopra lo lo eseguo in console si lo so ma vorrei poterlo scrivere al volo non non si può fare vabbè senza scrivere poi vabbè ok eeeh allora mh perchè questo non non esegua il volo eeeh si si basta premere qua e il risultato esce qua mh ok eeeh va bene allora adesso proviamo proviamo una funzione dunque eeeh proviamo a vedere che cosa esce fuori seeeh eeeh allora questa funzione qua in linea generale per esempio il tempo non può essere zero no perchè il logaritmo di zero è meno infinito per cui se adesso proviamo a fare no eeeh aspetta un attimo scrivi una roba di questo tipo eeeh y uguale log aperta parentesi di eeeh per esempio per esempio proviamo a fare mh zero che dovrebbe non dovrebbe funzionare ma magari funziona virgola eeeh questo è x zero e y zero facciamo eeeh cinquanta virgola eeeh poi cosa c'è y uno eeeh no scusami allora zero virgola zero un'altra volta perché zero e x e zero x zero e poi cinquanta di y zero poi virgola dieci virgola zero punto cinque adesso ok esegui questa riga questa dovrebbe tirare fuori cinquanta ma invece non lo farà mi sa eccolo ecco overflow error mat ranger si perché eeeh eeeh non può essere zero il allora fai una cosa eeeh fai eeeh 0.01 matti ma c'è un errore anche qua eeeh overflow error mat ranger quando certo lo fa perché perché se gli diamo zero questo impazzisce ok eeeh quindi dagli 0.1 e 0.1 questo bisogna ricordarselo a meno che non facciamo un'altra cosa non ci aggiungiamo una costante pure overflow allora comunque overflow allora aspetta però forse allora c'è qualche altro problema eeeh no scusami perdonami ma io così non riesco a lavorare eeeh nel senso che ho bisogno di una di una console viva non non così eeeh aspetta un attimo eeeh riprendo un attimo lo schermo eeeh eeeh o se no 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 se no fai una cosa eeeh puoi prendere un una console cioè tipo il command.com invece che questo ma ho preso la console viva di python eeeh però non la vedo io non la vediamo perché non la vedo ho capito scusi è vero eeeh qua schermo intero eeeh ho così bene allora adesso fai eeeh import eeeh no aspetta aspetta non è from matt import log perchè lui ce l'ha già la funzione aspetta aspetta no non facciamo casino eeeh questa funzione nostra chiamiamola però devi rinominare anche il file devi chiamarla my log perchè log esiste già sentite io devo andare in bagno facciamo 5 minuti di pausa ok si va bene 5 minuti ok 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 eccoci ci siamo allora torno un attimo dove eri ho rinominato si no stavo pensando scusami stavo pensando che forse il nome migliore sarebbe log fun e facciamo l'altro file lo faremo lo chiamiamo exp fun perchè così eeeh così lo lo ecco questo lo chiamiamo così e buonasera adesso eeeh quindi no eeeh no no vabbè questo linear va bene così ma log fun poi la chiamiamo anche log fun la funzione anche log fun perchè log per no scusami dentro il file log fun.py devi chiamarla log fun la funzione a che senso dentro il file vedi che c'è il file aperto e si chiama log la funzione non si deve chiamare log si deve chiamare log fun perchè log è un nome già usato già usato nella libreria matematica quindi meglio non far casino ok allora adesso fai from log fun import log fun e va bene ok e già cominciamo bene eeeh no perchè eeeh lui non ha il tuo eeeh python pass eeeh cioè ah ok eeeh non guarda lì dentro allora scusi scusi allora facciamo niente così dici 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 che sia facile almeno penso non so se è corretto quello che penso no eeeh qui purtroppo eeeh no 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 non è non funziona così purtroppo python in questo è veramente rognoso eeeh non ricordo più come si fa bisogna importare eeeh si spazio si sembra si o si o o s import eeeh 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 from no ma non è non basta questo bisogna dirgli di guardare qui dentro no no aspetta eeeh se tu esci da qua esci proprio dalla console no nel senso che non vai fai se fai quit qui fai quit aperta parentesi chiusa parentesi no devi fare quit no no quit aperta parentesi o control z anche ecco eh no devi prendere proprio command.com guarda se no 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 non se ne esce da qua guarda purtroppo questa è una rogna allora devi prendere il command.com no no aspetta fermo fermo no no vai vai sulla vai sulla barra sulla finestra ecco scrivi ehm sotto in basso no no non qua non così no no non così chiudi sto coso allora vai in basso dove c'è scrivi qui per eseguire scrivi command ecco questo mi serve a me ah ok questo is your friend ok adesso devi fare quella cosa che ti sei salvato fai cd spazio lì quella directory che avevi salvato ok si la copi da qualche parte ok no senza log fun però senza cd fino fino alla directory ok vai invio ok adesso fai python scrivi python da qua ok 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 questo lo puoi ingrandire sono sicuro che puoi ingrandire caratteri vai sulla barra in alto fai con la tasto destro e proprietà e poi fai caratteri metti tipi di caratteri lo metti più grande no in alto c'è il tab tipi di va si vediamo ok magnifico ok adesso questa lasciala aperta e non chiuderla mai più ok fai from log fun import log fun vediamo se ce la facciamo no 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 però lo devi scrivere bene vediamo se ce la facciamo bene perfetto ok adesso il punto qual è è che vabbè proviamo a fare y cioè no fai y uguale log fun allora fai aperta parentesi 0.1 0.1 virgola poi questa è la x 0 0.1 di nuovo no 0.1 virgola poi 50 10 virgola 0.5 cioè questo facciamo una funzione che va al contrario vai invio 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 ecco lui dice math range error perché dunque è qui che fa il math range error perché questo è un numero troppo troppo piccolo troppo grande non so forse deve stare sopra uno allora fai frecce in su che riprende il comando fai invece che 0.1 fai 1.1 no 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 1.1 e 1.1 no 1.1 e 1.1 si si va bene ok vai si invio invio no lo fa comunque quindi c'abbiamo c'è un errore da qualche parte come dici il problema no 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 aspetta vediamo un attimo qual è qual è il problema il problema sta nei logaritmi non 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 perché qui il problema è quanto vale a lascialo lì è quello non lo chiudere ok allora facciamo qui dunque vediamo un po' questo no bisogna capire dov'è il range error quindi adesso inseriamo qui un un debugger allora per inserire un debugger si fa così imparate che questo serve spesso e scrivi sotto formato oppure anche sopra in alto scrivi import pdb è il python debugger questo ok lo importa si ok e poi subito sotto appena appena facciamo la 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 funzione no dentro dentro la funzione sotto sotto la riga 4 inserisci una riga hello pdb punto set underscore trace ecco quello lì e basta salva riprendi la console oh adesso no qua c'è un c'è un c'è un guaio che che questo non fa più l'import questa è un'altra rottura di palle di di python che eh siccome la la funzione l'ha già importata qui devi uscire per forza e rientrare allora eh fai vai e fai invio fai quit o ctrl z o quit ok questo ok e rientra perchè lui deve rimportare from lock fun import lock fun credo forse ce l'hai ancora i comandi perchè li salvano ok ok adesso prova a fare frecce in su se tu fai frecce in su cosa succede ecco questo ok voglio questo adesso si ecco adesso lui si è fermato dentro il codice vedete lui sta se tu fai l qui fai la lista di dove si trova lui si trova dove sta la freccia ok ok allora adesso no fermo torna lì lo guardiamo lo guardiamo da qua eh adesso se tu fai n lui si lui esegue quella riga fai invio ok adesso qui possiamo sapere eh dunque qui possiamo sapere quanto vale a allora fai p spazio a che stampa il valore di a si ok ok vedete che questo è un valore molto molto alto sono eh 10 con 20 zeri moltiplicato per questo numero ok adesso giusto per per capire ma se tu scrivi exp ti ehm dunque fai exp di aperta parentesi y1 questo ci stampa quanto vale y1 eh perché noi cosa avevamo messo avevamo messo 50 no? eh quindi questo è e elevato a 50 fa invio che è uno no scusami e elevato no allora qua ci siamo sbagliati da qualche parte perché questo non è normale eh dunque abbiamo come funzioni x0 y0 e x1 y1 sì eh questo non mi sembra così eh alto y0 no qui c'è qualcosa che non va perché scusa fai e exp di 50 invece di y1 scrivi 50 eh questo questo è il valore questo è il valore che mi aspettavo ah no perché non è fatto y è fatto y1 non y0 fai exp di y0 dovrebbe essere questo valore qua sì ok ok adesso tornano le cose quindi se faccio quello meno quello mi sembra mi sembra molto strano perché ehm ehm ah e poi è negativo ah perché c'ho y1 sì sì giusto cioè y1 meno y0 è giusto è giusto è giusta questa cosa e x1 meno x0 vabbè sarà sarà anche quello giusto va bene quindi ci abbiamo un a molto grosso ok adesso vai avanti fai n che andiamo una riga sotto ok adesso ci abbiamo guardiamo quanto vale b fai p spazio b ok e quindi ci abbiamo anche questo è un valore molto grosso ah ma scusa ma certo non dobbiamo mettere return di exp dobbiamo mettere il return di log adesso ah scusa questo è un errore mio sono eh certo logfun deve fare il log non l'exp ok adesso ok allora salva adesso cos'è quello no allora adesso fai qui fai c per continua fino alla fine questo va a sbattere ok adesso fai ctrl z qui qui si ok riprendilo puoi fare sempre freccia in su ehm freccia in su invece di riscrivere fai lo ok se fai se fai freccia in su qui riprendi la funzione com'era com'era ok 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 vai ah c'è ancora il debugger fai c qui per andare fino alla fine ok ok ehm logfun missing positional perchè l'abbiamo chiamato con quattro positional no no aspetta leviamo leviamo il debugger se non capiamo niente qui ehm vai lì ehm vai sul file e leva il debugger ah ok si questo lo puoi cancellare vabbè puoi cancellare tutto salva dovrebbe adesso dovrebbe funzionare se non no qui ci vuole un tab per carità di dio ok no ehm volevo cancellare lo spazio però sono andato con la linea troppo in bo ok adesso qua devi rifare tutto ok molto fastidioso tutto questo però ok adesso forse ce la facciamo ok ehm ok dunque lui dice che manca un positional argument dunque ci abbiamo cinque argomenti questi sono cinque dove sta il positional argument 4 0 ci abbiamo x1 ci abbiamo aspetta 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 un attimo ehm torna su mmm e l'abbiamo messi di positional argument perché mi rompe le scatole da dove lo prende questo lo prende da ehm ehm siamo sicuri che siamo in mh in quella directory sì 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 no 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 scusami no no è che non devi scrivere vedi questo mi sa che te l'ha scritto il tuo editor e non devi non è return log fun è return log ecco qual è il cioè log è quello di del allora aspetta ehm devi fare però in alto from mat import exp virgola log perché deve importare tutte e due perché log fun effettivamente vuole 5 5 parametri ok vabbè dai questa questa è la prima volta è sempre un po' ok ecco adesso è una ok mhm vai ok guarda quanto vale y dovrebbe valere uno dovrebbe valere 50 y scrivi y invio sì ok ci siamo quasi ok adesso se fai y1 y1 uguale log fun di aperta parentesi ehm 10 virgola 1.1 virgola ehm 50 virgola 10 virgola 0.5 0.5 dovrebbe valere più o meno 0.5 0.5 0.5 0.5 ok ehm questo non ce la fa non ce la fa troppo piccolo no ehm ma domain error vuol dire che siamo usciti fuori da ogni grazia di dio ehm ehm prova a fare ehm riprendi o fai 9,5 qualcosa del genere no 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 eh che qui stiamo facendo un 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 logaritmo a scendere no no il x il primo parametro non fare proprio i 10 fai 9.5 e le funzioni logaritmiche esponenziali no c'hanno c'hanno problemi vediamo dov'è che gli esplode tutto quanto qui no 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 si ma ma in che perché inizialmente funziona bene ma non funziona più bene verso la fine quindi metti un valore intermedio metti 5.5 no non funziona proprio nulla ma però se metti 1.1 funziona no? cioè l'avevamo visto che funzionava no ehm no 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 fa' bono 1.1 funziona virgola ho in insert invia si 1.1 funziona mi sa che già dunque proviamo a farla diversa facciamo che partiamo dal basso e andiamo verso l'alto quindi partiamo da boh no questo è si ma non era y1 vabbè comunque partiamo dunque noi siamo qui il nostro punto di partenza facciamolo invece che 1.1 facciamo 0.1 vediamo ho scritto che ce l'ho no solo per risolvere la no no va bene va bene poi ancora 0.1 ce la fai Sheila? resisti? si ok partiamo dal basso partiamo come come tra l'altro dovremmo partire noi facciamo da 0.01 ok e poi questo è 10 e lo facciamo 10 sempre e andiamo a finire a 0.5 bene così dai vediamo no questo non ce la fa a fare nulla perché non ce la fa a fare nulla come dici? il problema è che il problema sia 0.01 questo è un valore troppo basso no forse non può stare sotto 1 no 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 questo valore qua va bene non è la y è la x che non può stare mi sa che vai dunque aspetta un attimo vediamo un attimo i logaritmi come funzionano fai un invio qua così lo vediamo dai piedi ok adesso fai from mat import exp virgola log ok allora adesso se noi abbiamo per esempio qui noi abbiamo diciamo il logaritmo scrivi log di aperta parentesi allora questo non dovrebbe funzionare meno 1 invio ok questo è il problema capite? adesso se fai log di 0 questo è il problema adesso fai log di 0.01 ok capite cosa succede? cioè il problema è che sotto se io vado sotto lo 0 cioè se io do alla funzione log quella che sta alla riga 5 della del mio della mia funzione la risultante di quell'espressione è negativa questo qui mi dà un mat domain error ok quindi io non posso mai dargli se per esempio adesso se gli dai log di aperta parentesi 0.0000001 ok lui lo farà sempre è un numero vedete che va negativo verso infinito ok perché così funzionano i logaritmi e questo va e questo va sostanzialmente la quello che sta dentro quella funzione alla riga 5 della nostra roba non può scendere sotto 0 ok può andare molto molto vicino a 0 ma non può scendere sotto 0 adesso il problema qual è è che per esempio se io faccio un adesso vediamo un attimo proviamo proviamo a fare tu scrivi a uguale la facciamo la facciamo a mano questa funzione così vediamo quello che stiamo facendo aperta parentesi exp aperta parentesi no exp di aperta parentesi cosa mettevamo noi mettevamo 0.01 no scusami exp è di 0.5 perché è y1 meno no poi chiusa la parentesi bene meno exp di 0.01 ok e poi fuori da tutte le parentesi non ti preoccupare adesso fuori da tutte le parentesi aperta parentesi diviso aperta parentesi di nuovo diviso è semplice slash così no sì diviso e cosa facevamo 10 meno 0.1 questo numero qua quanto vale fai invio fai invio a scrivi a adesso invio ok questo è questo numero qua dunque dunque adesso il problema è fare vediamo quanto vale b allora b no b uguale tu scrivi meno dunque questo è come l'abbiamo fatta è meno aperta parentesi a a moltiplicato per exp di x0 x0 in nostro caso è 0.1 ok più y0 no questo deve stare bozzo ma vabbè fa lo stesso y0 nel nostro caso è 0.1 0.1 mi scriviamo a ok ok si e b quanto vale ok allora adesso il problema adesso il problema è vediamo quanto vale se io lo prendo all'inizio no cos'è che non ci all'inizio ci funzionava però se io lo prendo dunque non mi ricordo più come la funzione torna torna un attimo su log fun ecco quella fai invio ok va bene però adesso vediamo quanto vale 0.1 moltiplicato a più b che vedi che questo è un numero negativo no fai basta che fai 0.1 moltiplicato a più b senza parentesi senza niente questo è quello che sta dentro la funzione logaritmica moltiplicato a più b ok si se questo è negativo quello dà errore ed è negativo no perché a è piccolo e b va a contrastare si ma perché abbiamo sbagliato nel calcolare b perché non è possibile questa cosa dunque dov'è che abbiamo sbagliato dunque scusami io mi devo fare un attimo me lo rifaccio un attimo allora siccome y è uguale a log di ax più b a è uguale a exp di y 1 dunque perché io c'ho che exp di y 1 meno exp di x e y 0 fratto x 1 meno x 0 e qui e fino a qui non ci piove poi dopo di che y 0 è uguale a log di ax 0 più b quindi e elevato a y 0 è uguale a scusate io me lo devo rifare tutto perché quando si sbaglia più a quindi p è uguale a e alla y 0 meno ax 0 cosa abbiamo scritto noi meno ecco qual è il problema è il contrario b allora b l'abbiamo fatto al contrario b deve essere uguale a meno a per x 0 più e alla y 0 non non al contrario aspetti meno a per x 0 più l'esperenziale di e alla y 0 ci siamo sbagliati nel confronto cioè non è beh aspetta 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 sì non è così ma a è il contrario è e e a per quello per exp di quello a più più exp di però exp ci vuole exp qua aperta parentesi non ti preoccupare degli spazi adesso mettile aiuto lascia perdere le parentesi cioè metti exp di quello aperta parentesi poi vai in fondo chiudi la parentesi ok fai invio scrivi b adesso fai torna su un attimo riprendi ecco riprendi no no riprendi quel 0 1 per a più b perché è quello che ci deve venire positivo vai fai invio ok a posto allora era era sbagliato qui sì qui bisogna stare attenti con le ok a posto salvalo ok ora dovete o no bisogna uscire rientrare anche qui funzionano le frecce se vuoi risparmiare battimenti eccolo eccolo qua guarda un po allora questo è preso all'inizio guarda un po quanto vale y1 sì che ci sta ok adesso prendiamolo alla fine prendi y2 no no devi fare ok vabbè fa lo stesso prendilo come ti pare no y0 non esiste non l'abbiamo non l'abbiamo fatto quindi no no scusi noi abbiamo definito x0 e y0 no 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 fermo devi guardare la console la funzione l'abbiamo chiamata y abbiamo detto y1 uguale log fun di tutta quella roba adesso fammene un'altra sempre y1 se vuoi non importa e adesso la pigliamo però invece che a 0.1 la pigliamo a 10 quindi ecco quello lì deve essere 10 dove ti pare 10 ok si e adesso qua dovremmo essere a 0.5 si ci siamo funziona adesso l'unica cosa da ricordarsi è che i valori di y non possono scendere sotto non possono essere negativi a noi non ci importa questo possono essere anche molto molto piccoli se vuoi 0.0001 ok ma non possono essere negativi a posto ok allora questa è a posto adesso facciamo la funzione esponenziale adesso fai expfun praticamente un affare che si chiama expfun ok adesso copia logfun perché è praticamente identica salvo che dobbiamo invertire tutte le allora logfun la devi chiamare expfun adesso exp li devi chiamare log e log li devi chiamare exp mamma mia Sheila fare queste cose durante la notte credo che sia abbastanza trying ok adesso vediamo eh bene adesso vabbè questo non c'è bisogno che qui ti no vabbè ok no non c'è bisogno tanto non l'avevi mai importato ok 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 adesso facciamo expfun invece che logfun però metti partiamo facciamo la prima 0.1 ok e questa vai fai invio fai invio y1 dovrebbe essere ok sì più o meno ci siamo queste non sono mai precise perché dipende dalla precisione della macchina eh sì fai quello ed è più o meno 0.5 ok fatto ci siamo adesso possiamo metterci a lavorare su quello che stavamo dicendo ok lascia questa console qui che va bene qua adesso dunque stavamo dicendo io proverei prima di tutto a fare un 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 inviluppo cioè a fare una progressione logaritmica ok quindi sostanzialmente riprendi un attimo il driver che che stavamo facendo beh ehm sì il driver è quello che ci serve adesso no 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 il driver il quello non so come l'hai chiamato ecco questo ok perché quello che dobbiamo cambiare qui è come procede lo step ok vedete che io qua ho sostanzialmente c'è uno step costante ok ma lo step dipende diciamo dalla da tutta la durata no diviso per il numero di note intanto bisognerebbe importare logfan certo no basta importare logfan ok ok a posto questo mantecola cos'è nascondere non mi nascondere la roba che poi non la vedo preferisco vederli non capisco perché non è colorato quello sopra ma vabbè non fa niente vale from che problema c'è il from che non lo colora bene anche qua c'è anche l'importa in porta adesso concentriamoci un attimo sullo step in basso allora qui lo step lo devo calcolare è uno step che è dipendente da da dei parametri che li dobbiamo dare ok quindi quello che vogliamo fare è in alto alla riga 21 invece di dire noi dobbiamo diciamo che ok ci abbiamo un numero di note e dobbiamo distribuirla in maniera più o meno logaritmica cioè molte note all'inizio quindi uno step molto corto no e verso la fine invece lo step si deve allungare cioè verso la fine a partire da quasi subito lo step no aspetta però perché dobbiamo decidere prima da da che step partiamo ok quindi no dobbiamo decidere una variabile che si chiama start step cioè lo step iniziale io metterei io metterei vediamo un po facciamo così mettiamo il 60 per cento delle note nei primi nel primo nel primo che ne so 10 per cento del tempo ok che ve ne pare concentriamo le note quindi quindi no però no dobbiamo fare che quindi in quel tempo lì ci dobbiamo mettere cioè il nostro start step deve essere il 10 per cento del due range quindi due range moltiplicato 0.1 oppure sì moltiplicato 0.1 ehm 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 mettilo fra parentesi mettilo fra parentesi questo due range moltiplicato 0.1 no dimmi cos'è che volevi fare sto pensando di mettere direttamente il numero no 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 facciamoglielo calcolare a lui ehm diviso ehm aperta parentesi n notes moltiplicato 0.6 quindi questo è quello che vuoi fare vabbè ok d'accordo quando la proprietà è in parenti io in che senso va bene adesso ok ok adesso ehm vai a capo e mettiamo l'end step invece ok l'end step è ehm ehm due range per ehm 0.9 cioè il resto del tempo non so se è fatto bene sta roba non credo 0.9 diviso per aperta parentesi ehm diviso per n notes moltiplicato per 40 per cento per il 0.4 0 0 non è uno zero quello ok non ti sbagliare perché non vedo niente quindi sto andando alla cieca ok ok adesso ok allora adesso abbiamo tutto quello che ci serve step non serve più qua perché step lo dobbiamo calcolare di volta in volta quindi per le step non serve più sì allora le step serve no step serve dentro il while perché step deve essere è una funzione di at allora adesso dentro dentro ehm aspetta prima di questo prima di questa riga ehm o sopra o sotto va bene sotto questa riga qua calcoliamo il prossimo no scusami step è vero serve all'inizio prima del while o no o se no no basta che lo metti dentro il while ma subito dopo ehm no scusami dentro il while non serve va bene era andava bene dove l'avevi messo sotto la riga 27 perché adesso calcoliamo lo step lo step è uguale log fun e action time a t virgola allora t.x0 virgola adesso ci va y0 che è start step e poi ci va ehm l'y ehm no l'x1 t t x ehm no scrivi et questo è et va bene virgola e poi ehm 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 no è et che è x perché questo è un triangolo quindi qua ehm è il vertice è il vertice destro e e poi end step questo dovrebbe miracolosamente distribuire il tutto ok la no 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 fermo perché lì dobbiamo lavorarci ancora intanto facciamo questo vediamo vediamo cosa succede salva eh vabbè qui non si capisce niente cioè eh eh no il problema è questo che dovremmo ehm torna all'inizio ok ehm qui ce ne dovrebbero essere molte all'inizio di note infatti mi sembra che ce ne siano tante sì sì e poi dopo man mano man mano si si devono rare ecco aspetta fermo 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 prima del 14 perché al 14 cominciano le altre torna indietro qua qua eh ecco qui sono distanti una dall'altra beh sì più o meno non veramente vero beh sì sono qua ce ne stanno poche vedi qua ce ne stanno poche ci stanno in un secondo ce ne stanno 4, 5, 6 diciamo in un secondo ce ne stanno parecchie guarda il 14 quanti ce ne stanno certo allora è giusto dovrebbe essere giusto proviamo a farlo scusa posso farti vedere un trucco che 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 posso prendi la prendi la tua eh prendi come si chiama ecco questo allora fai il quit quit adesso da qua sei in quella directory abbiamo tutto quello che ci serve tutto quello che abbiamo fatto nella directory in questa no? adesso scrivi python spazio come si chiama quel file che sta adesso su pycharm finale .py ok invio ok adesso fai un'altra cosa fai python riprendi quella riga finale .py ok ok spazio superiore cioè il segno no 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 il segno maggiore questo significa ridirigi dentro un file scrivi spazio score punto sco invio vado si ecco lui te l'ha scritto dentro un file senza che ti rompi le scatole a fare copia e incolla eccetera eccetera se tu apri il file score punto sco vedrai che c'è dentro quello che ha salvato nella directory in quella directory lì in quella directory lì è un file di testo certo e deve essere un file di testo adesso posso chiederti di fare un file separato di orchestra c sound cioè l'orchestra mettila in un file separato ok allora posso o prendi driver punto or quello che avevamo fatto cioè guardia dovrebbe quello che abbiamo usato per il testo non mi ricordo driver punto or che si chiama no l'hai rinominato sì la leonardo è matto richiama tutto cioè vuole vuole per forza farsi del male aspetti vabbè prendi prendi il file che c'ha il csd quello che è e copiamo la parte dell'orchestra e la mettiamo dentro un file che si chiama dove ecco questo adesso prendi copia no no senza senza i tag iniziali solo la parte no sotto ecco no sotto sotto ancora c'è un fino alla riga no giù 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 dove dove c'è sr a partire da sr fino a end in basta non voglio nient'altro ecco ok copialo adesso copia te lo non fa che si chiama driver punto or o si chiama pippo punto or quello che ti pare nuovo nuovo file python o no 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 il file text file text file driver orchestra punto or quello che ti pare punto or ok fine chiudilo salva ok adesso se vai su sulla console vedrai che è tutto più semplice perché il file te lo fa te lo sai scrivere da python e poi questo file c sound scrivi qua spazio poi ti poi ti dico perché driver punto or score score punto sco voilà invio oh non è più semplice tutto questo cioè lui ti scrive la roba dentro file eccetera eccetera e lui realizza tutta la faccenda ok adesso prendi audacity e vediamo sto benedetto file se non ti piace il file puoi fare meno qualcosa no prendi prendi audacity però guarda come è già più triangoloso questo adesso fa fai fai un attimo no no allarga 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 la finestra e facci vedere lo spettro si subito ok insomma è un po più triangolesco cioè c'ha più roba all'inizio adesso se riusciamo pure a sentirlo no però non è no così non lo sentiamo noi ah no così sì sì ok cosa è successo un po' sempre uguale forse 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 dovremmo fare qualcosa di diverso no vabbè ok 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 va bene comunque diciamo che al di là della se la cosa se la cosa è interessante oppure o meno però siamo più o meno riusciti a fare quello che volevamo poi adesso qui è un problema di diciamo di diciamo di appunto diventa un problema compositivo cioè i numeri se sono sempre uguali non è tanto interessante e forse è il caso di variarli un po' cioè riprendi un attimo il sì ma il tuo desktop si muove tutto sprechi tempo macchina a far muovere il desktop ma disgraziato va bene lasciamo stare ok no 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 non quello ma prendi prendi il file python quello che c'ha i quattro triangoli no no i cinque sei triangoli quelli che sono ok allora adesso vedete che per esempio il il problema è che per la linea di basso ripetiamo sempre le stesse cose stanno stanno e quindi lui giustamente rifà sempre la stessa cosa lì a quel punto si possono fare delle cose magari anche un po' più interessanti che ne so per esempio tempi diversi uno lungo uno corto e si può fare per esempio un contenitore come abbiamo fatto il contenitore per il soprano fare un contenitore per il basso che in qualche modo distribuisce i tempi per esempio in maniera diversa i tempi per esempio in maniera diversa fa uno lungo uno corto uno cioè allora cioè quindi non è più logaritmica ma esponenziale no 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 questa questa diciamo che va bene così ma vedete che qui noi abbiamo fatto sostanzialmente l'array base è sostanzialmente un contenitore e la funzione che genera tutti i bassi l'abbiamo messa l'abbiamo esplicitata no mentre invece nella funzione contenitore nell'oggetto contenitore quella del soprano l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta implicita poi chiamiamo soprano tu c sound e quello fa tutto ok? capite quello che voglio dire? allora adesso da qui in poi abbiamo tutti gli strumenti dobbiamo solo decidere che cosa fargli fare se per esempio per esempio sentendo il basso da solo viene sempre la stessa cosa quindi è noioso no? forse bisogna variarlo di più però a questo punto forse conviene mettere questo dentro un altro contenitore no? che in qualche modo faccia delle cose diverse per esempio distribuisca questi triangoli quindi temporalmente in maniera diversa oppure se riciclassimo il codice che utilizzavamo precedentemente per la linea di basso che comunque era praticamente una linea inclinata e disponessimo i triangoli stessi su quella linea inclinata facendo di andare con un moto accendente no questo questo non è la linea di basso la linea di soprano riciclassimo il codice del soprano eh sì il codice del soprano certo invece di fare quello facciamo invece di utilizzarlo lo puoi fare al contrario certo ma il problema qui è un altro per esempio il problema è che i i triangoli sia nel soprano che nel basso sono sono disposti ehm sono disposti come dire in ehm che era sequenziale si equidistanti no mentre invece potrebbero essere disposti ritmicamente capito quello che voglio dire vabbè questo magari lo facciamo la prossima volta però adesso no adesso potremmo fare una cosa cambiare il codice perché secondo me il adesso il codice adesso dovremmo vedere il codice del soprano invece perché secondo me il codice del soprano ha qualcosa di sbagliato c'è qualcosa che non va ok quindi guarda tu puoi fare una cosa puoi mettere un diesis davanti alla riga 26 in maniera che non faccia il basso lui lo calcola ma non lo fa infatti 25 no 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 basta basta che basta che metti 26 il 26 è quello che scrive il codice che scrive il codice di C sound no? quindi basta mettere un diesis la e lui non fa più niente e poi questo e poi poi levi questo adesso verifichiamo cosa succede qua perché anche questo non va bene allora adesso scusa salva si ok prendi la prendi il terminale la console adesso vediamo che cos'è che non va qua e scrivi python sempre fai freccia in su vedrai che trovi la riga giusta no 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 non ci serve questa adesso lo facciamo girare no 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 fai quit quit ok fai python finale.py scusate finale.py e poi lo ridirigi fai ehm superiore sempre score.score no guarda che questo è il trucco del secolo eh ok adesso lo score.score si si l'ho sovrascritto senza dirti niente perché è molto è molto brutale molto sovietico eh va meglio così eh fatti meglio così certo che meglio così ok adesso qua mh vabbè qui non riusciamo a vedere bene quello che succede però sostanzialmente mh facciamo una cosa no cambiamo un po' il codice mettiamo meno note perché noi abbiamo messo 1500 note ogni volta il contenitore che cosa c'ha no la n la n è l'ultimo parametro quindi vai sul finale il numero di note è l'ultimo parametro vai sul vai sul software eh sto perdendo un attimo no scusami n è il numero di triangoli no no mi devi dare ridami un attimo il contenitore che non mi ricordo come fa a calcolarsi il numero di note qua aspetta lo step qui è sempre uguale ed è non ci vedo mannaggia lo step è sempre uguale siamo noi che gli diciamo quante note vogliamo allora torno un attimo su finale scilla ci sei sì ho perso la connessione sì sì infatti ok abbiamo messo 100 note ma strano sembrano molte di più le note no allora vabbè qua ci sarebbero i comandi per sapere quante righe sono sono 100 per 7 giusto sono 100 per 7 quindi è giusto va bene ok no sembrano molte di più non so perché ama forse le durate sono più lunghe vai un po sul contenitore vediamo un po forse le le dunque le durate come sono calcolate le durate ridurr diviso per cosa ma n 7 questa è una stupidaggine cioè perché a cui le durate sono molto lunghe non è non è questo ecco perché cioè il punto è che le durate qui aspetta un attimo fermo fermo dunque le durate qui non sono calcolate bene perché scusa cosa abbiamo detto sono self n per due cioè qui quindi è 14 meno 13 ed è tutta la durata tutta la durata diviso 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 di e diviso 13 no va bene dunque allora vediamo un po no luce lui ci attacca sopra no però questa no scusami no perché questa è la durata dei triangoli non è veramente la dura infatti è tridura si chiama ma la durata interna delle note non è no 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 non c'è mi sa che mi sa che mi sa che fammi vedere un attimo forma che mi sa che formano non c'è una durata interna che la sua e basta non si può specificare ecco dur da dove se la cava dur dur se la cava da questo valore qua ok torniamo torniamo al contenitore quindi quando io faccio c sound calcolo questo dur questo dur è il numero di note è la durata quindi durano sì buonasera questo sì quindi io ci metto la no ecco cos'è che non va è che le note durano tutto il triangolo sì cioè non sono tutte una sovrapposta all'altra non va bene mettiamo le mettiamo le facciamo scusa questa è la durata totale adesso aggiungiamo una riga sotto no sotto sotto lo step quando abbiamo calcolato lo step facciamo che facciamo una variabile che si notte dur che non è dur si nota dur quello che è ok e la facciamo la metà dello step facciamo staccato diciamo facciamo questo è l'equivalente step diviso 2.0 scrivici 2.0 ok non fa salvo o poi nella nelle note di c sound quello che tito ci sound no alla riga sotto invece che dur messici note dur anche questo per esempio questa è una semplificazione troppo semplice cioè in un discorso musicale vero le note non possono durare tutte uguali no chiaro come ok dai siamo alla fine salva vediamo ok vai sulla console fai frecce in su ma no sì ecco invio ma è quello è quello che preoccupato ok ci sound adesso riprendi sì tu non ci credi ma è quello non ci credi vero ci sa un driver punto org score punto sco ok fa invio ok se avremo delle delle ampiezze molto 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 no non è questo il file fatti devo fare chiudino guarda c'è la crocetta si si dovrebbe esserci ecco adesso dunque ok ok adesso questa cosa qua va beh va beh c'ha questo andamento esponenziale che a me non convince però si 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 sistema verso il basso e poi dopo no è che praticamente qui è una costante fa sempre la stessa cosa ok vabbè adesso al di là del fatto che è più o meno cioè scende ma poco ok mentre invece all'inizio fa cioè praticamente lui fa un esponenziale ma non era quello che volevamo fare noi noi volevamo fare una retta lineare ok va bene adesso questa è una cosa che correggeremo però capite che queste cose qua si fanno poi dice è esattamente quello che volevo no non volevo una roba del genere volevo volevo qualche altra cosa allora poi bisogna andare a cercare qual è qual è il problema e poi questa questa forma qua c'ha lo stesso difetto che aveva l'altra cioè la distribuzione costante delle non si sente bene la forma triangolare però va bene allora ti chiedo questo leonardo mi mandi tutto quanto il finale forma triangolo base aspetta un attimo aspetta un attimo